Sono un'insegnante di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali che ha vissuto tutte le tappe fondamentali della riforma della scuola media del 63. Ho vissuto anche con entusiasmo i nuovi programmi del 79 che lavoravano per temi importanti ed erano veramente e sono considerati a tutt'oggi migliori del mondo. Ho vissuto anche il cambiamento della mia disciplina da matematica e osservazioni scientifiche in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. Mi trovo adesso ad affrontare una nuova riforma che ritengo di vedere senza pregiudizi alcuni. Però non condivido due cose che mi riguardano da vicino, la separazione dell'insegnamento di matematica e scienze e il fatto che dagli obiettivi specifici di apprendimento sia scomparsa totalmente la parola evoluzione. Il tema dell'evoluzione per le scienze è il tema portante di tutti gli argomenti e li unifica totalmente. Grazie per la visione! Questo dunque è il punto di vista della Will Scuola. Negli anni 60 il 42% degli italiani non possedeva alcun titolo di studio. Il 42% della popolazione aveva la licenza elementare. Solo il 10% aveva ottenuto la licenza di scuola media inferiore. Nei primi anni 60 il livello di analfabetismo in Italia era ancora alto, ma sicuramente lontano da quello ereditato dopo l'unità d'Italia. Si contavano oltre 3 milioni di analfabeti, circa l'8% della popolazione, con livelli più alti per le donne rispetto agli uomini. Per le nuove materie di studio fu una vera e propria rivoluzione. Osservazioni delle menti di scienze naturali, educazione artistica, applicazione tecnica e educazione musicale, le materie che cambiarono le abitudini di studenti e insegnanti. Nella scuola media si studiava anche religione, italiano, storia e educazione civica, matematica, lingua straniera, educazione fisica e il latino, facoltativo dalla terza media. Quale traccia ha lasciato quella riforma della scuola media unica? La riforma del 63 si situa all'interno del grosso processo di riforme di quel periodo, che hanno innalzato i livelli di partecipazione e di democrazia nel nostro paese. La riforma in particolare fu pensata per combattere l'escursione sociale e per far aumentare i tassi di partecipazione e i livelli, soprattutto culturali e civici, degli studenti. Era caratterizzata soprattutto dal fatto di rendere effettivo l'obbligo scolastico, ad esempio prevedendo sezioni di scuole medie in tutti i comuni. Poi la scelta fra continuare o non continuare gli studi e dove continuarli fu portata effettivamente a 14 anni. Da 11 che era prima. Infine fu cominciato anche a darsi avvio alla integrazione di disabili e non ultimo e estremamente importante fu la partecipazione e la condivisione da parte dei docenti, in quanto fu preceduta la riforma da una ampia e diffusa sperimentazione. Firmato il nuovo contratto della scuola. Di questo parliamo oggi con la Will Scuola. I nostri ospiti sono Massimo Di Menna, Mario Ricciardi, Anna Maria Miceli e Franco Sansotto. Buongiorno a loro e benvenuti. Il nuovo contratto prevede un incremento delle risorse da destinare ai fondi di istituto. Voi però sottolineate l'esigenza di rendere più tempestiva l'erogazione di queste risorse per poi permettere alle scuole di spenderle. Sì, questo è un problema che è stato molto evidente e che ha assillato le scuole per tutto questo quadriennio di vigenza contrattuale. Abbiamo posto le premesse per migliorare questo aspetto per due motivi. Il primo è che abbiamo eliminato quelle lunghe ed estenuanti trattative con il Ministero per cui le scuole dovevano aspettare la fine di queste trattative per cominciare ad avere l'aspettativa di avere qualche soldo. Oggi le risorse arrivano in maniera quasi automatica in quanto le risorse per le funzioni vengono attribuite automaticamente senza dover fare nessun calcolo, senza dover fare assolutamente nient'altro. Mentre le risorse del fondo, essendo costituite sulla base di parametri già noti e già predisposti, dovrebbero accelerare anche questi problemi legati alla tempistica. Con un sindacato importante, uno dei più importanti, la UIL, abbiamo in studio il segretario confederale Antonio Foccillo. Buongiorno segretario. Noemi Ranieri invece è segretario nazionale UIL Scuola. Buongiorno dottoressa Ranieri. E poi c'è Guido Fantoni, presidente dell'Aran. Adesso vedremo anche della grafica che ci illustrerà quanto andiamo dicendo. Questo contratto, nella caratteristica di tutti i contratti che si rinnovano biennalmente, porta delle modifiche soltanto di tipo economico e finanziario. Non ha effetti sulla normativa. Quindi interessa un milione di persone intanto. Sì, quasi un milione e duecentomila, cioè 850.000 docenti e 250.000 ataci. Allora, sono 130 gli euro a disposizione. Adesso cerchiamo di vedere, di spiegare la grafica e così poi dopo parliamo, più in generale. In questa grafica possiamo vedere come l'aumento di un docente di scuola secondaria di primo grado, cioè di scuola media, potrà percepire un aumento di circa 120 euro e di 2370 di arretrato. La quota è leggermente più alta certamente per i docenti di scuola secondaria di secondo grado, 1647 di arretrato, però diciamo che loro hanno subito delle modifiche di carattere normativo per l'inquadramento, per il profilo, nell'arco delle ultime due tornate contrattuali e poi prefiguriamo per loro di incrementare ulteriormente sia i livelli di retribuzione e sia la trasformazione dell'indenità di amministrazione a quella di direzione per avvicinarli a quel ruolo che hanno, che è quello dirigenziale. Ma quindi gli arretrati quando li percepiranno i lavoratori? Allora, il contratto deve essere sottoposto alla verifica da parte del governo e da parte della Corte dei Conti. Noi stiamo spingendo affinché questi passaggi avvengano in tempo utile, affinché i lavoratori possano avere sia gli arretrati, sia gli incrementi stipendiali entro il dicembre 2005. Gli insegnanti hanno avuto il consenso di tutto il sindacato ad avere più soldi rispetto alle altre categorie proprio perché ritenevamo che fosse giusto per l'importanza che loro hanno anche per lo sviluppo e per la competitività del Paese. È una funzione centrale per un Paese come il nostro che deve puntare sul sapere. Buongiorno, benvenuti a 10 minuti di... Esiste una scuola italiana anche all'estero e di questo oggi parliamo con Will Scuola rappresentata da Angelo Luongo, responsabile del Dipartimento Estero. Buongiorno Luongo. Salve. Dal professor Giorgio Salerno che per la verità è un dirigente scolastico attualmente al Ministero degli Esteri e da Assunta Fattori che è anche lei un'insegnante, una docente di lettere alle scuole medie e hanno avuto tutti esperienze di lavoro all'estero e quindi ci racconteranno anche un po' la loro esperienza. Però prima di andare avanti io vorrei che la regia ci facesse vedere questa scheda che introduce bene i temi che affronteremo in questi 10 minuti. Gli insegnanti statali impegnati nelle scuole italiane all'estero sono oltre un migliaio. Le risorse necessarie ai loro stipendi sono a carico del Ministero degli Esteri. Nelle stesse realtà scolastiche lavorano anche migliaia di insegnanti assunti localmente a carico delle scuole stesse. La maggioranza del personale lavora in Europa. I giovani che studiano in classi dove si parla l'italiano sono 12.500 circa. Gli studenti stranieri nelle scuole italiane sono oltre il 70%. I corsi di lingua e cultura italiana nel mondo sono seguiti da circa 500.000 ragazzi di questi 400.000 nel mondo e 100.000 in Europa. Grazie a tutti.